In Italia io ho notato, quando guardo certi youtuber e anche certi guest che parlano liberamente, che dicono un po' il cazzo che gli pare sul mondo, ma perché in Giappone, perché in Cina. Vieni qua al pub, parli con uno che magari ha vissuto otto anni in Giappone, due anni in Siria, prima del conflitto, a suo padre che è ancora lì col conflitto e tu gli parli del conflitto in Siria, questo qua ti dice, capito, devi stare molto attento a quello che dici e devi essere corretto, ma non politically correct, veramente corretto con le persone, questo è quello che direi. Poi se sei così e ti sbatti per sopravvivere, diciamo che forse ce lo puoi fare. Sì, anche perché mi hai fatto pensare proprio in Italia, c'è molto questa roba, proprio la chiacchiera, che da un lato la vedo come un bene, nel senso ognuno può esprimere la sua opinione, il problema è che molto spesso c'è vengono, c'è l'opinione dello storico, del professore o di chissà cosa viene messa allo stesso livello della persona, diciamo, del popolo, la dico molto alla larga, che comunque vuole esprimere il suo disagio, vuole esprimere la sua idea, la sua opinione. Cioè molto spesso, anche per sfruttarlo come cliente, che sia un programma televisivo o anche a livello politico, tu dici sì sì sì, in effetti anche tu hai ragione, capito, magari non c'entra un cazzo, cioè gli mancano centomila stasselli alla storia, però dicono no sì, però ma sì, va bene anche la tua. E niente, allora Paolo, ti volevo chiedere innanzitutto, per iniziare, siccome questo canale un po' riunisce, la cosa che riunisce un po' questo canale è che è la passione per la musica, per esempio nel mio caso, è molto il come la musica mi fa sentire, e niente, quindi ti volevo chiedere, anche per i ragazzi in chat, c'è chi è più appassionato ai testi, chi più ha alle produzioni, chi ha determinati artisti, eccetera. E niente, volevo chiederti un po' la tua storia, ma non in generale, in generale la tua storia con la musica, ne so, cosa ha fatto scattare in te la, cioè, anche come si è evoluta nel tempo la passione per la musica, proprio il fatto anche di essere un po' nerd, andare, esplorare, cercare, condividere, parlare, eccetera, eccetera. Ero curioso di sapere un po' la tua esperienza, come è stata. Ma certo, io andavo con il, quando ero piccolo piccolo, ti parlo di quando avevo 11-12 anni, il nonno mi portava in discoteca di pomeriggio, perché all'epoca c'era una discoteca aperta di pomeriggio, quindi per i ragazzini, ovviamente avendo 12 anni non potevo entrare senza un adulto, quindi andavo con lui, che stava lì a leggersi i romanzi gialli della serie Orania su un divanetto da qualche parte, e io andavo a ballicchiare in pista, a saltare e a, diciamo, consumare le mie energie ormonali di quell'epoca. Ed è lì che è venuto all'osmosi con la musica afroamericana, perché, diciamo, io ho 55 anni, quindi si parla del 79-80, e quindi c'erano tutte facce nere e voci nere e musica fatta da musicisti. Questo posso chiederti tu, cioè dove abitavi quando eri piccolo? Io abitavo a Genova, quindi frequentavo all'epoca le discoteche del pomeriggio per ragazzini di Genova. Poi c'era anche la radio, c'erano tantissime radio private all'epoca, che mandavano tutta musica diversa, ognuno aveva più o meno il suo indirizzo, e quindi c'era tantissimo funk, c'era tantissima disco, molte robe proprio indipendenti, non parliamo di robe major, parliamo di tutta quella roba che poi ha influenzato l'house, la techno, tutta roba che poi ha influenzato anche il trip-hop, la Balearic di adesso, la New Disco, le cose che suoni adesso a Londra in certe sale le ballano ancora come matti, quindi è roba totalmente attuale, ed era un'esperienza che mi ha avvicinato alla musica. Da lì ho incominciato a, diciamo, andare nei negozi di dischi, per fortuna i miei sganciavano dei soldi, quindi li buttavo tutti in dischi, mi compravo i dischi, mi riempievo gli scaffali di dischi. Ti ricordi il tuo primo disco che hai acquistato? Io me lo ricordo il mio. Ho comprato il nonno. Che ha detto proprio voglio questo, non che magari te lo sei trovato in casa, perché ha detto voglio questo. Quando il mio nonno mi comprò il mio primo giradischi, penso che fosse nel 78-79, era Donna Summer, Bad Girls, album doppio, che c'ho ancora, poi l'ho ricomprato in condizioni un po' migliori, perché l'ho consumato. Questo me lo devo recuperare. Ma come mai hai fatto questa scelta? Ti ispirava la copertina oppure avevi già sentito dei pezzi? No, mi ispiravano, la musica la conoscevo, poi avevo, diciamo, un Debole per Donna Summer, che aveva una voce incredibile e i pezzi erano firmati da Giorgio Moroder, che all'epoca era una star della disco e soprattutto era un produttore di successo che aveva influenzato tutto. Se non ci fosse lui non ci sarebbe stata molta di quella tecnica. Ripetimi il nome del produttore, scusami che me lo sono perso. Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, ok, perfetto. Due pezzi fondamentali sono From Here to Eternity e I Feel Love. Uno è un pezzo di un cantante maschio, che è quello che ha influenzato tutta la dance elettronica che è venuta dopo, e l'altro è I Feel Love, che ha dato un'influenza e un colpo maggiore verso, diciamo, il timone per andare su sequenze di, diciamo, sintetizzatori e per mettere per linee di basso, anziché usare bassisti con bassi elettrici e altre cose. Chiaro, chiedono, era anche, era colonna sonora di Scarface? Penso una delle tracce. Vabbè, può darsi, può darsi, perché Giorgio Moroder ha fatto licenze per un sacco di film quando poi ha assunto la fama di stardom a livello internazionale. Però Chase, ad esempio, che è un altro pezzo elettronico di Giorgio Moroder, se non sbaglio, ha fatto la colonna sonora di Fuga Mezzanotte, se non sbaglio. Non mi sbaglio il titolo. Lui ha fatto diverse cose per il film. Chiaro, chiaro. Sì, infatti mi dicono poi anche i Daft Punk l'hanno omaggiato proprio con un pezzo, se non sbaglio in Random Access Memories. Sì, 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 poi i Daft Punk hanno, diciamo, hanno tra virgolette omaggiato tante persone con dei campioni grossi così, però sui Daft Punk è la mia opinione, però diciamo di sì. Ci può stare, magari poi la trattiamo un giorno. C'ho anche parlato io con i Daft Punk, li conosco molto bene. Ah, onesto. Da Parigi ti conosco, sì, c'è stato un bel dialogo acceso ai tempi, si parla degli anni 2002-2003. Chiaro, chiaro. Io c'ho un'ignoranza totale su ste robe, ma più che altro c'è proprio... Cioè non saprei neanche da dove partire, quindi... Quindi niente, cosa volevo dire? Ah, vabbè, sì, poi dicevano Donna Summers, vabbè, campionata anche da Gunna e Drake. Sì, come dicevo, ha avuto un'influenza enorme fino ai giorni nostri. Questo vuol dire che quando ti campionano e ti prendono, vuol dire che non fai così schifo e non sei così mister o miss boomer, capito? Ah, sì. E ci pensa sempre che gli anni 70, chi ha vissuto gli anni 70, adesso non so qual è l'etichetta per chi è nato nel 60-67 e ha vissuto gli anni 70. Sarà ultra boomer o boomer? Sì, più di boomer. Però in realtà nel mondo dei boomer sono state fatte delle cose che i millennials, i new millennials, i cuccioletti dell'ultimo decennio sembra che nella drill, nella trap, in tante altre cose hanno trovato ispirazione per e hanno fatto, diciamo, tanti bei campionamenti. Quindi vada a guardare su Vsampled, vai Donna Summer e vedi che arriviamo fino al 2023. Che tra l'altro ho visto anche che Google adesso ha lanciato una sua intelligenza artificiale per capire i brani, cioè un brano che cosa ha campionato, sempre che abbia campionato qualcosa. Ti riferisci a chat di GBT? No, 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 è un'altra, è proprietaria di Google questa. Sì, 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 sì. E niente, esatto, vai, racconto il mio aneddoto che in confronto è di... del primo disco che ho comprato è stato Rap & Roll di J-Axe perché mi ispirava la copertina, perché già quando ero piccolo mi parlavano molto degli articoli 31, di come avessero fatto la storia della musica rap, eccetera, eccetera. Poi ero entrato poi in fissa con Caparezza, con Fabri Fibra, vabbè, all'Elementary andava quello e quindi... Quindi sì, ho visto il primo disco di J-Axe, c'era la copertina con lui, con scritto Rapper Roll sul petto, tutto con quella scritta, pensavo fosse vera tra l'altro, andava all'Elementary, quindi non capivo un cazzo. E niente. Quindi ti volevo... L'abbiamo già toccato, cioè quindi, diciamo, stasera volevo parlare di un topic in particolare, essendo, diciamo, principalmente sia la mia generazione che anche quello che seguiamo sul canale, principalmente i pop, rap, quindi comunque musica... Io personalmente poi tendo ad apprezzare, anche se sono una cultura minima, tendo ad apprezzare principalmente la musica black e dico spesso sta roba anche per scherzare, per rompere le palle, ovvero che la musica bianca fa schifo, barra non esiste, e hanno tutto rubato ai neri per... arricchendosi sulla loro cultura. Ovviamente con basi veramente minime, senza... lo dico anche con poche fondamenta, infatti, cioè... vi dico sempre che... di non prendermi mai troppo sul serio, perché... appunto sono cose dette, però... niente, volevo chiederti... volevo chiedere a te appunto se un po' potevi farci o spiegarci un po' la cronostoria e qual è stata l'evoluzione, sia della musica black nel mainstream, diciamo, o nel... quando è arrivata le masse, come si è evoluta con... con l'hip hop, eccetera, eccetera, perché comunque ha un collegamento anche con la disco, se non sbaglio, essendo tu anche appassionato di quel mondo. Certo. Cioè appassionato, ci lavori, quindi. Sì, ma non saprei cosa dire, perché è un'affermazione... questa è una cosa che dici tu spesso nel tuo canale. No, spesso, cioè più che nel canale, anche in privato, anche in discussioni. Ah, in privato. Tipo, cioè, quando mi consigliano qualcosa di rock... Come reagiscono i tuoi amici? Cosa ti dicono? Beh, non mi dicono niente, dicono... Ah, sono zitti. Eh, questo è pazzo. Una volta ci davamo delle botte proprio per questo. Minchia, addirittura. Negli anni 80 ci mettevamo le matti addosso, sì, perché c'era molta più cattiveria in giro adesso. Tutti dicono che i giovani di adesso sono cattivi, non è vero. Io penso che i veri bastardi eravamo noi. Può essere. Cioè, io ho fatto proprio il cattivo con tanta gente negli anni 80 perché si è permesso di dire che i Led Zeppelin erano i più bravi. Ok. Ci sono tornati a casa con la faccia un pochino più... Beh, come ero prima, diciamo. Questi erano gli anni 80. Diciamo, il benessere ci ha fatto stare più chill in generale. Il benessere... Siete più chill rispetto a noi. Anche se pensiamo a fare la guerra, se pensiamo a fare la guerra, scendere in piazza e fare sempre tutto abbastanza... Ma i ragazzi di adesso, proprio i quindicenni, i ventenni di adesso, piacciono molto di più di quelle che eravamo le teste di cazzo noi negli anni 80 che proprio mi fanno schifo. Ok. Però... Cioè, ma perché scusami, poi ti lascio andare, scusami, come mai secondo te c'era questo sentimento? Cioè, come mai era così sentito? Allora, in Italia noi innanzitutto avevamo avuto il terrorismo che adesso non c'è. E quindi c'era tanta gente, basta che vedi, ad esempio, le dichiarazioni online della Mambro e di Fioravanti, ma ci sono tanti altri giovani che avevano preso le pistole, avevano ammazzato i loro coetanei solo perché erano vestiti in modo diverso, no? Perché... C'erano tante cose in cui non voglio entrare. Però, diciamo, c'era molto bianco e nero. Cos'è? O rosso e blu, quindi o eri di qua o eri di là. E nella musica era lo stesso. O eri rock, ACDC, Led Zeppelin, Banaleg, eccetera. O eri Donna Summer, Sylvester, Johnstone, Cool and the Gang, eccetera. Grazie per il follow. E ci si andava proprio, a San Babila ci si andava a picchiare. Mincia. Con questo. Si picchiava con le catene, con tutto quello che puoi immaginare. Cioè, erano cose dove la gente andava all'ospedale. A Genova era un po' più soft, però noi genovesi siamo degli orsi. Perché in due minuti una conversazione normale, soprattutto all'epoca, si trasformava in rissa. Ok. E io più di una volta, sia a scuola che nel bar, ci alzavo le mani. Perché come si permette uno di dire, le Zeppelin sono i più bravi. E io gli dicevo, che cazzo dici? Adesso qua si incazzava e dopo due minuti erano schiaffi che volavano. Più o meno, anche era un po' quello l'esempio. Io sono specifico come persona, ma c'era gente che non aspettava la reazione. Quindi anche meno. Quindi succedeva questo. Poi c'era molto nervosismo, perché secondo me, l'assenza di social, quindi di TikTok, di Instagram, non dà la possibilità di sfogarsi a livello di eterism. Ok, varo. Per cui se tu fai l'ether, insulti le madri, i padri di tutti, ti mandi a morte, gli auguri tutte le malattie possibili, e un po' ti sfoghi. Non essendoci quello, ma essendoci solo tanti libri, tanti dischi e cassette piratate, con chi ti sfoghi? A meno che non ti vai a dare legnate allo stadio o al bar. Sì, sì. Cioè se non puoi insultare nessuno, perché non c'è ancora internet, chi insulti? Eh, insulti quello che ti dice è una cosa con cui non sei d'accordo. Anche se magari non lo faresti, però è perché hai tutto questo nervosismo represso, e quindi, insomma, sì, alzi un po' le mani. Adesso secondo me non c'è più tanto bisogno di quello. No, 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 più che altro... Sì, sì, secondo me è esatto. Cioè poi, esatto, è sempre specchio del clima in cui si vive, il modo in cui ci si comporta, diciamo. Sì, poi c'è anche molto il dibattito comunismo-fascismo, no? Sì, sì, sì. Tu difendi certa musica, sei più fascista che comunista, quindi mi fai schifo, perché sei molto responsabile indirettamente di quello che è successo in passato. Quindi va... Sì, sì, ma facciandomi questo discorso, poi mi è fatto venire un po' in mente anche le origini dell'hip hop in Italia, della rap, diciamo, anche più nel mainstream, quindi ho pensato a tutte le faide, che, ma proprio faide, incazzati, ma se penso anche a uno come, a uno come Inoki, esatto. Uno come Inoki, che, capito, l'hanno sempre detto, cioè si beccavano ai centri sociali, si picchiavano, perché quello era andato in Rao, perché... O anche solo al quel... Non fantomatico, come si dice, quel famoso concerto che fece Albertino con Radio DJ, che gli lanciarono le Mentos. Lì non ti potei permettere, non ti potei permettere di sgarrare, o stavi dentro, oppure se real di fuori non è parlare di quella cosa, ma se ti permettevi di parlarne dovevi avere rispetto e competenza, ed è questo che, in un certo senso, ha preservato quella cultura fino a un certo punto, ma allo stesso tempo ha creato dei malintesi che poi hanno fatto in modo che si è creata un'altra corrente e quando la zucca è arrivata a un certo periodo alla fine degli anni 90, ha detto, ah ma che bello, si lavora meglio con certa gente che con quelli che c'erano prima, facendo imbestialire ovviamente. Tanta gente che invece era stata tranquilla, ma che faceva parte della cultura hip hop genuina che si era generata negli anni 80-90. Un discorso di... Chiaro, chiaro. Sì, sì, sì. Potrebbe essere un libro di mille pagine riguardo. Sì. Cavolo, aspetta, devo dire una roba... Ah sì, poi magari, secondo me anche, poi smentisci, queste sono le mie supposizioni, illazioni, eccetera, eccetera. magari a quei tempi poi c'era più la... cioè veniva più rispettata magari rispetto ad ora la figura dell'autorità e chi era l'autorità? Quella che aveva le competenze per parlare, anche solo un professore in classe, no? Quindi capito, parla chi è autorevole, se no stai zitto e ti becchia... E tu capito, magari in quell'epoca ricevi quell'educazione. Ora invece, io avendo fatto le uniti, cioè proprio rispetto per l'autorità non c'è... proprio zero. Certo. Questo però è un problema perché, pensaci bene da un punto di vista pratico, è bello perché da una parte tu parli con me senza alcuna soggezione, però in realtà nel momento in cui tu c'hai un cazzo da toglierti da qualche parte, cosa fai? L'autorità non vale un cazzo? Con chi parli? Perché quello non vale un cazzo, allora non dovresti chiedergli la roba, perché quello ti dice vaffanculo, tu mi tratti come una pezza da piedi, perché pensi che la mia autorità valga zero, arrangiati. E questo è il discorso. Allora ti trovi a documentarti su internet e cosa c'è su internet? C'è una vagonata di roba, alcune cose sono giuste e corrispondono alla realtà dei fatti che raccontano, altre cose no. E da solo, poverino, a vent'anni si fai. Esatto, non è una guida più che altro. Esatto. Lascia perdere la Wikipedia, se vuoi capire come funziona una cosa, Wikipedia e quelle robe lì, cioè proprio o zero. Sì, ma penso che anche chi ha voluto copiare, diciamo, nella nostra esperienza da studenti superiori e media, Wikipedia non è più neanche la fonte più attendibile perché è quella che ti sgamano subito. Ma non è messa la fonte attendibile, è un giochino. E niente, però sì, questa cosa è interessante anche perché se è vero, io sento esatto di non averla questa roba come autorità, ma non nel senso che non porto rispetto, cioè io la vedo proprio come, cioè ho piacere ad avere uno scambio senza però io sentirmi in soggezione, cioè capito? perché molto spesso il problema che io ho avuto anche con l'autorità è che cioè ti si chiude anche il cervello. Sì, sì, sì. Io intendo la persona proprio che tu insulti perché dici chi cazzo sei, tu non dovresti manco aprire bocca anche se sei i 50 anni che fai questa cosa. Quello è la mancanza di... Ma che parla così secondo me è un rincoglionito. Cioè, ti fa cos'è? Ce n'è, ce n'è. Ce n'è. Su internet io ho fatto dei confronti su YouTube e Twitch ho fatto dei confronti con della gente che è peggio peggio di questo. Però quelle persone poi sono sole. Eh, esatto. Perché nei momenti in cui devono risolversi un problema non hanno nessuna figura di riferimento che assurgono ad autorità e quindi come fanno? Sì, sì, sì. Ah, spesso secondo me è gente che capito proprio passami il termine paesani. Cioè, gente che non è mai uscita da quella bolla e crede o di sapere tutto di... perché se fai uno step fuori dal tuo paese o dalla tua zona di comfort ti rendi conto di cosa tutto c'è nel mondo e cosa tutto accade. Io non li voglio giudicare perché ognuno di loro è diverso e ha il suo problema per agire così. Però io ti dico che se tu non hai... se tu non stabilisci proprio nella tua mente lo decidi tu quali maestri vuoi vuoi che siano i tuoi maestri nella vita avrai molte più difficoltà perché è molto più bello vivere con delle figure di riferimento. Quello è vero. Quello è vero. Puoi cambiare. Quello è vero. Puoi evolvere puoi cambiarle puoi metterne altre però per un po' ti sviluppi e ti costruisci una forma mentis e una cultura con quei maestri. Per me ce ne sono alcuni per te ce ne saranno altri io ad esempio sono la figura di riferimento per alcuni c'è gente che ha scritto delle tesi di laurea su alcuni miei episodi mi hanno anche consultato privatamente per delle consulenze quindi mi fa più molto piacere io stesso nel passato ho utilizzato grandi DJ che sono anche sconosciuti ma facevano i DJ dagli anni 60 per scrivere il mio libro sull'hip hop e sulla disco quindi per me quelli sono dei maestri perché hanno troppe informazioni che da solo io nella mia vita non posso raccogliere ma perché loro hanno avuto il tempo e hanno testimoniato delle cose che nessuno saprà mai perché non ci sono in wikipedia non sono state stampate non sono in pubblicazioni su siti specializzati su internet né universitari né privati né pubblici quindi queste persone devo tipo prendi un DJ come Daniele Baldelli che l'ho fatto venire a suonare qua a Londra ci ho parlato gli ho fatto due interviste sul mio canale youtube su twitch se non era per lui noi adesso non sapevamo tutta una serie di cose che lui non ha mai scritto e che ha detto solamente a voce le ha ripetute più volte e si possono considerare fede degne perché sono state riscontrate anche in tanti altri DJ dell'epoca che le hanno ripetute e allora a questo punto se non è per sta gente che ha vissuto prima di noi come cazzo facciamo noi a dire delle cose a esprimere delle opinioni su cos'era la musica negli anni 60 e 70 perché non è quella che ci racconta il TG1 eh no assolutamente no chiedono dalla chat il libro il tuo libro qual è se si può cioè come si chiama se si può trovare non c'è ancora lo sto scrivendo si chiamerà la perdita del groove la perdita del groove dalla disco all'hip hop e c'è è tutta un'analisi musicale con interviste fatte a un sacco di grandissime persone alcune ormai non più presenti tra noi che hanno dato testimonianza eccetera perché esatto c'è chi meglio di chi l'ha vissuta quelle robe le può spiegare raccontare cioè da chi attingi se non da chi ha vissuto in prima persona quelle situazioni o sbaglio se io quando tu avrai 60 anni sì e qualcuno vorrà sapere com'era internet quando tu ne avevi 20 se tu non hai scritto nessun libro l'unico modo è chiedertelo e se tu hai fatto quando avrai 60 anni 30 anni di esperienza su internet quante cose hai da insegnare al pivello di quel futuro che vorrei imparare da te assolutamente noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti della gente più giovane dobbiamo parlargli dobbiamo dirgli tutto quello che sappiamo perché prima o poi muoriamo è inutile nascondere bisogna tramandare quindi lì dobbiamo trasferire il massimo delle cose è per questo che io faccio tutti questi video e parlo con la gente e che mi chiedano più possibili più cose perché nel libro mi dimenticherò delle cose ma con delle domande le cose vengono fuori capisci e poi queste persone possono riscontrarle con altri mastodonti super boomer come me e gli chiederanno è vero quello che ha detto quello lì e si riscontra con dei confronti fino a quando non si sensibiliscono delle verità allora ci saranno studio o per te subito una domanda allora così entriamo subito nei temi nei temi è nel caldo è nel caldo allora conosciamo tutti un po' la storia dell'hip hop anche chi magari chi non la conosce in tchatsky su più e più e meno ovvero appunto che è nata a Brooklyn adesso già sbaglio magari comunque a New York DJ adesso ho avuto il voto di memoria totale comunque quella situazione come si è voluta eccetera eccetera secondo te sia io che chi segue comunque la gioventù di ora quali sono le cose che devono sapere che dovrebbero sapere e che magari non non vengono citate spesso di cui non si parla spesso per quanto riguarda la storia e la cultura della musica black e poi in particolare dell'hip hop allora innanzitutto le cose da sapere sono tantissime forse troppe ok e non è colpa di nessuno se a vent'anni uno non sa che fino a poco tempo fa si credeva che l'hip hop fosse nato solo nel Bronx più avanti si è stabilito che c'erano delle forme di diciamo cultura hip hop anche prima dell'unificazione tra amiche e bambata della Yusul e Nenonation negli anni tardi anni 70 ma anche un po' prima anche in altri distretti di New York quindi nel Queens Brooklyn eccetera e adesso ci sono degli studi che stanno andando in tale direzione sono stati pubblicati due libri in inglese che sono purtroppo abbastanza cari ti parla di 120 euro l'uno e si chiamano hip hop regional hip hop regionale e ti parla dell'hip hop in tutte le regioni dell'america includendo anche San Francisco che è molto importante perché lì arrivano le prime espressioni di rap nella disco con una specie di influenza hip hop già presente tipo Rappers the Light e lì è molto importante perché è una cosa che si è sviluppata indipendentemente quindi l'hip hop come si stabiliscono questi due libri era già qualcosa di globalizzato a quel tempo però la globalizzazione partiva da una distribuzione su emittente radiofonica e su dischi cioè non c'erano ancora i social la globalizzazione che abbiamo adesso invece è basata anche tutta una serie di trasmissioni internetesche eccetera quindi questo è il preludio ma per sapere tutta sta roba perché è una cosa per cui bisogna conoscere quali sono state le radio private e pubbliche più importanti negli Stati Uniti dove c'erano gli intrattenitori che rappavano perché è da lì che molti rapper si sono ispirati all'inizio le cassiere dei supermarket che rappavano mentre facevano il conto delle merci nella cassa tutti i dischi che avevano prima di Rappers Delight un po' di rap qui e là e tutti quelli che nella discoteca intrattenevano rappando un po' perché c'era questa moda che stava salendo perché dal Bronx stava uscendo tutta sta roba e tutti che andavano nel Bronx per poi copiare e portare fuori e quindi anche in altri distretti c'era Cartis Bloch che per imparare a preparare prima ancora che facessi i dischi andava nel Bronx e lui era di Harlem quindi anche a Harlem poi c'erano tutte queste cose e nessuno di noi era lì e non sono stati filmati in nessun modo non ci sono ci sono solo le cassette fatte nei block parties che risalgono addirittura al 77 76 e lì ci sono già dei piccoli app e quindi l'unica cosa che si può fare per un ventenne è con tanto coraggio leggersi un po' di libri in inglese per l'italiano scordatevelo quelli che sono stati tradotti sono molto incompleti e gli studi veramente seri sull'old school sono complicati e quindi che non si diano troppe colpe perché capire quelle cose nel dettaglio gli ci vorrà dai 20 ai 32 35 anni come minimo cioè dai 20 nel senso 15 anni di studi ci vogliono perché bisogna ascoltare migliaia di dischi leggere decine di migliaia di testimonianze leggere decine di migliaia di pagine fermarsi ragionare costruirsi una struttura e poi capire veramente un po' come la cosa si è sviluppata ma si parla di regioni distretti di centinaia di migliaia di persone che creavano in contemporanea cose un po' diverse fino a quando è arrivata la Sugar Hill Records con sto disco e perché quella era era l'orgasmo finale già di un processo di masturbazione condivisa cioè non è che lì c'eravamo era uscito il disco perché sta qua la Silvia Robinson ha detto che bello facciamo un disco l'era andata in un locale dove ha sentito repare tutta la sera e ha detto wow facciamo il disco e ha se tramite il figlio se industriata questo aspetta allora mi sono perso un attimo questo questa signora se mi puoi ripetere anche il nome dove c'è Silvia Robinson ok in quali locali è un cantante che aveva esorbito con dei pezzi nel 76 per un'etichetta gestita in parte dalla mafia che si chiamava Roulette Records dopo di che in che città siamo siamo a New York City penso nel la Sugar Hill penso che era nel distretto di Sugar Hill che è un quartiere che non so se sia compreso nel Bronx o no non me lo ricordo è vicino al quartiere di Maurice Senia e lei ha un certo punto con soldi che vengono da queste belle organizzazioni di origine italiana costituisce un'etichetta discografica proprio perché è stata affascinata da queste cose di rap che venivano promosse e questa etichetta era al di là di quelle esperienze discografiche nel soul che aveva fatto nel passato dedicate al rap quindi lei cosa però fa innanzitutto inizia a pubblicare diverse cose con dei rapper locali poi a un certo punto trova questi tre rapper uno dei quali aveva preso in prestito un libricino di rime di un DJ che si chiama Grandmaster Cats che non vuol dire Grandmaster Cazzo perché la parola cazzo in inglese non ha corrispondenza fortunatamente non con quello avrà corrispondenza a un qualcos'altro quindi Grandmaster Cats aveva diciamo prestato Big Bang Hanks che è anche diverso da Grandmaster Flash scusami sì sì no no perché si chiamano Grandmaster perché erano i Grandmaster del Ceremonist nel senso che loro introducevano le serate rappando come una sorta di sermone in pre-cerimonia dopo di che il DJ partiva e loro poi però Grandmaster quindi era chi stava sui piatti o non quello che Grandmaster Cats era anche chi rappava Grandmaster Flash era un DJ perché era una persona che iniziava e finiva questo grosso DJ set ma quello arriva leggermente dopo Grandmaster Cats era un rapper che esisteva già dagli anni metà degli anni 70 e scriveva tutte queste belle rime che poi ripetevano i block parties che erano feste che si facevano nei parchi attaccando l'elettricità alle prese pubbliche e facendo ballare tutta la gente dei vari quartieri dove questi parchi erano situati per tutta la notte cosa succedeva che quando Big Bang Hanks fu contattato da Sylvia Robinson per provare a fare questo disco di rap sembrerebbe che Grandmaster Cats avesse dato questo questo libretto in prestito di rime sue a Big Bang Hanks dicendogli facci un po' quello che vuoi che qui ci sono testimonianze discordanti perché Cats dice non gli ho detto facci quello che vuoi ma Big Bang Hanks dice sì e quindi questo cosa ha fatto Big Bang Hanks è andato in studio con gli altri due con Master G e l'altro non mi ricordo come si chiama Sylvia Robinson ha registrato il rapper The Light e ha fatto si è bella rima hanno fatto la storia sono the hit the hop the hippie to the hop to the top da 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 e ha sostituito Grandmaster Cats con Big Bang Hanks e ha fatto una parte di Rappers The Light poi gli altri rapper hanno preso e scopiazzato un po' da tutti gli altri ricordiamoci che c'era un'altra etichetta c'erano altre due o tre etichette importanti all'epoca c'era la Enjoy Records e ce n'era un'altra che non mi ricordo più come si chiama poi mi verrà in mente che avevano già pubblicato diversi dischi da cui diciamo molti avevano preso ispirazione e tra cui appunto la Sugar Hill Game per Rappers The Light quindi Rappers The Light è un po' una recollection di tutto quello che già c'era stato prima ed è fascinante perché tu quando ascolti quel disco se lo vedi come la risultante di una serie di esperienze precedenti dici cazzo quello è il portale se studio per andare indietro ed è la mia personale time machine per rivivere dei momenti particolari perché come si fa poi si prendono dei libri come la biografia di Grandmaster Flash dove lui va indietro e ti dice prima c'era questo c'era questo c'era questo c'era quell'altro e parla in maniera così concreta che alle volte sembra proprio di avere i piedi piantati in certe zone del Bronx con quel caldo di quell'estate vicino al party dove il DJ inizia a suonare senti il profumo dei vinili dal caldo che c'è e vedi tutta sta gente che balla e che suda sotto sto sole coccente del Bronx d'estate sappiamo che New York fa caldissimo d'estate e freddissimo d'inverno quindi questo più o meno è quello che un inizio molto semplificato fare tutto questo discorso seriamente parlando proprio di tutto quello che si sa ci vorrebbero qualcosa come 400 ore di live non sto esagerando perché sono decine di migliaia di pagine di roba di vari libri chiaro chiaro a quel punto penso sia anche meglio leggerselo perché dopo un po' uno si può tornare indietro si può fare chiaro chiaro ma facendo anche questo discorso mi è venuto in mente uno ho pensato anche cazzo ho pensato ora anche i rapper trapper di adesso dove siamo arrivati dove siamo arrivati eccetera eccetera poi quando parlavi appunto del brand della Sugar Hill Gang ho pensato che alla fine come la commercializzazione come l'accessibilità al prodotto poi favorisca il cioè di anche l'opportunità di conoscere tutto il pre no anche il fatto che tu ascolti questo e poi scopri che ho fatto un collegamento anche per esempio tipo io ho tutte queste informazioni sulla nascita dell'hip hop diciamo le ho un po' avute anche dalla serie quella di Netflix che si chiama The Get Down non era male quella è molto carina anche perché c'è una storia anche ha una storia sua interna di relazioni o di rapporti umani è molto carina e niente quindi se uno quando la guarda sa che è una fiction si si una fiction ovviamente deve intrattenere basata su fatti veri però c'è molta verità lì dentro chiaro si si esatto è pensato però comunque c'è un prodotto Netflix cioè capito quindi ti arriva alle grande masse arriva arriva quindi alle grandi masse tramite tramite questo processo anche solamente ho pensato a a Eminem no? cioè in Italia ancora se chiedi qual è il miglior rapper di sempre dicono Eminem perché perché è il rapper bianco che con quelli quale quindi la maggior parte del pubblico diciamo anche benestante ovviamente smentiscimi quando dico cazzate però immagino ai tempi chi stava meglio sia in America che in Italia siano le persone diciamo bianche comunque benestante borghesi a cui hanno accesso a determinati canali e quindi consumano anche di più spendono più soldi Eminem è più importante per una ragione molto semplice ne ho parlato tantissimo in The Men In Red negli anni passati è proprio un punto di svolta nell'e-pop perché è la dimostrazione che tutti possono rappare da soli cioè non c'è più bisogno di avere la band il DJ la crew capito? non devi più avere il gruppo Eminem è proprio il primo che va lì da solo bianco ovviamente parliamo sempre di bianchi che riesce a avere infatti ho pensato tipo Dr. Dre Snoop Dogg no Dr. Dre Snoop Dogg erano in una crew infatti non erano da soli però anche Eminem era appoggiato da Dre era appoggiato ma lui arriva lì da solo e fa tutto quasi da solo è ovvio che se sei hai sempre un mentore che ti dà qualcosa perché se non ci arrivi ci arrivi con gli altri però un conto è far parte di una crew e Dre sempre parto di crew anche prima di diventare il Dre che conosciamo era in una crew di Electro non mi ricordo se la Vre King Crew o qualcosa del genere e quindi è tutta gente che viene dalla attività produttiva comunitaria invece qui abbiamo il primo lupo solitario che riesce ad avere successo sul grande pubblico con la pelle bianca e quindi questo è uno spunto di ispirazione per tutti i bianchi che nelle loro camerette che a 15 anni dicono oh anch'io allora che poi era assurdo perché come Harry Potter sì esatto come Harry Potter Eminem è come Harry Potter qualsiasi persona con gli occhiali nella cameretta scopre di essere un maghetto ecco questa qui che è bello perché comunque uno se ci crede veramente si crea proprio la sua figura può essere una pagliacciata se non ci credi ma se ci credi e lo fai seriamente va rispettata anche se sei ridicolo perché secondo me crearsi una vita diversa è sempre più rispettabile che chinare il capo e adeguarsi alla conformità degli altri concordo al 100% cos'altro volevo dire a riguardo di questo ah sì no comunque sia assurdo anche il successo di Eminem perché sto pensando che da poco l'anno scorso mi sono riascoltato tutto The Slim Shady LP con i testi alla mano perché non l'avevo mai fatto sempre ha capito ascolti Eminem eccetera cioè una canzone come The Rian Slim Shady il successo che ha avuto per il testo che ha gli ha fatto cioè fuori di testa cioè veramente l'Italia non sanno capito poi è stato attaccato Fabri Fibra per anni eccetera eccetera ma cioè in confronto veramente non è niente e tutti a buon parere The Slim Shady The Rian Slim Shady The Rian Slim Shady e nel testo ci sono le le peggio obbiosità ovviamente in chiave comica anche quindi è super godibile quindi e quindi sì e quello è una cosa vecchia anche in Italia per dirti nel fine degli anni 70 tutti cantavano le canzoncine disco ripetendo quello che c'era nelle canzoncine se solo avessero capito la metà di quello che c'era in quelle canzoncine sarebbero diventati tutti dei travoni ok cosa vuol dire? capito perché vuol dire che erano canzoni che inneggiavano la diversità ok ah ok ok adesso capito e c'erano tutti mi ricordo c'erano questi eteroni che cantavano convinti delle cose e poi il giorno dopo a picchiare e dopo a trattare male le fidanzate le mogli eccetera che non capivano una minchia perché in quelle canzoni c'era esattamente l'invito a liberarsi a vestirsi colorati e a mostrare il culo quindi cioè non so come dire se avessero capito la metà di quello che cantavano avrebbero avuto un comportamento coerente completamente diverso dalla piatta da squalli da vita che avevano durante il loro day to day e diciamo adesso siccome abbiamo toccato il punto cioè tornando un pochino indietro invece cioè principalmente nell'ambito diciamo hip hop anche se non so se ci siano dei casi clamorosi che io sappia però in generale quali sono magari delle cose che noi non possiamo sapere che riguardano il fatto di la metto sempre così i bianchi che hanno rubato ai neri hanno commercializzato cioè quando è avvenuto l'evento più clamoroso di questa questa è una domanda che richiedere che ha richiesto ok libri e libri saggi di una quantità sterminata c'è già adesso io non ho ancora diviso la mia bibliografia io ho più o meno 5.000 e qualcosa libri proprio in fisico e non ho ancora diviso per argomenti perché è un lavoro imane però sarebbe bello che io dividessi tutta la letteratura che ho ma ci vorrebbero degli anni ho bisogno di assistenti comunque che si leggano tutto eccetera e dire capitolo 3 di questo testo parla degli anni dal 51 al 52 sulla appropriazione culturale capitolo 4 di quest'altro libro parla dal 61 al 68 capitolo 5 di quest'altro libro parla quindi al momento la risposta è non lo so però posso dire qualcosa ovviamente perché ho letto e quello che ti posso dire è che dagli anni 50 quella forma di R&B che aveva che hanno creato Ahmed Herteghan è il socio di cui anche non mi cronoma è il nome con l'Atlantic Records che aveva conquistato l'America ma è storica l'Atlantic da poco ho visto che ha fatto un record di qualcosa forse adesso non mi ricordo che record io consiglio a te a tutti voi di studiarsi vedersi documentari anche se non mi va di leggere dell'Atlantic Records sono degli ottimi documentari ti fa vedere come erano le canzoncine degli anni 50 e molti di voi capiranno che il pop più cheesy cioè il pop più commerciale che noi pensiamo che sia creato dai bianchi che fanno schifo quando fanno musica in realtà è stato già creato dai neri negli anni 50 solo che adesso ci si è arrivati adesso ma come formula cioè ne so come melodie come formula come struttura della canzone c'era un po' che cosa c'era il pezzo strumentale diciamo che per far ballare nei club dell'epoca con i fiati con il bel basso il basso toglo funky la batteria e tutto e poi c'era il pezzo cantato dai cantanti che fa quindi però ho cantato tutto con coretti gospel o magari coretti due up quindi con tutte queste armonie minori quasi in dissonanza e ovviamente quella cultura afroamericana così come veniva diciamo riprodotta dai questi due grossi produttori dell'atlantic negli anni 50 e da questi pezzi alcuni, diciamo, publisher, editori e grosse etichette che gestivano giovani artisti ventenni dell'epoca bianchi, dicevano, accoppiamo, tanto sti qua hanno appena iniziato l'etichetta, hanno un dipartimento legale che forse non è neanche inesistente, non hanno una grossa forza commerciale perché stanno crescendo, ma lì all'inizio ci mettiamo d'accordo, perché se sei già grosso ovviamente hai paura degli avvocati dell'altro, ma se sei piccolino è ovvio che puoi tranquillamente sbattere di piedi in faccia perché prima che questo qua si rialzi ci mette un po'. Allora copiavano, quando arriva Barry Gordy nel 59-60 e apre la Motown con il famoso disco, quello tutto giallo, che adesso costa un patrimonio, eccetera, eccetera, dopo che aveva aperto un negozio di dischi di jazz e che era fallito e quindi si era ripromesso di fare musica commerciale perché col jet non si vendeva un cazzo, visto che lui era figlio di persone che lo avevano stimolato a fare tanti soldi, apre la Motown con la volontà appunto di continuare la tradizione R&B dell'Atlantic e di portare questa musica a un livello ancora più, diciamo, di diffusione maggiore in America, quindi con più distribuzione perché col problema dell'Atlantic del 50 era anche, non era distribuita proprio dappertutto, la Motown invece con l'attività incessante di quest'uomo che lavorava 28 ore al giorno era quella appunto di promuovere dalle prime cose alle ultime in maniera, diciamo, costante e fare qualsiasi tipo di esperimento nel pop con artisti ovviamente di colore che potesse essere un giorno arrivare una fama tale da poter essere riprodotto davanti a re e regine delle corti di tutto il mondo, famosa frase di Berigordi, voi dovete essere i miei artisti e dovete essere i più belli e più curati di tutti perché un giorno vi esiderete di fronte alla regina di Inghilterra, quella della Danimarca eccetera eccetera. Allora la visione quindi. Quindi arriva Berigordi e aveva questa visione, allora il problema però di Berigordi che era bravo è che riusciva a trovare gente che scriveva bene, faceva bene, questo quello vuol dire che all'inizio aveva pochi soldi perché comunque non era ancora il, diciamo, Mega Man che poi è stato negli anni 70-80 con tutti i soldi che ha fatto con le sue pubblicazioni e quindi c'erano di nuovo sempre queste etichette, questi publisher che prendevano tutto. Già Elvis aveva preso la maggior parte delle sue creazioni e andatevi a vedere il film Elvis se non avete ancora capito come funzionata la musica di Elvis Presley e quindi Berigordi, questo già lo sapevo, quando poi comincia a viverlo sulla sua pelle si incazza e c'è un film che ne parla di questo, di cui adesso non mi ricordo il nome, forse mi verrà in mente, dove Berigordi si vede proprio che si arrabbia a tal punto che prende soldi in prestito in parte da quella che è la malavita, questo non si sa se è successo nella storia, ma in realtà noi sappiamo che ha chiesto dei grossi prestiti alle banche e la Notown cresce. Questo scusami per cosa? Cioè ha chiesto prestiti sempre per... Perché tutti ricordavano la roba e facevano uscire i dischi, allora lui faceva un disco di R&B e usciva sto disco di R&B dove cantava I'm so lonely e dopo due mesi usciva un disco cantato da un bianco, carino, bello, biondo, con gli occhi azzurri, con tutte queste bellissime ragazze bianche, una più figa dell'altra, con la chitarra e lo spondo havaiano dietro, I'm so lonely come aveva fatto Elvis Presley negli anni 50 con il colonnello Vate la Pesca. Quindi alla fine dei conti la storia si ripeteva anche con la Motown, poi apre la Stax nella metà degli anni 60, forse un po' prima, e anche lì tutto l'R&B, il soul e il nascente funk che era tutto copiato, il funk dagli artisti rock, il soul di artisti pop, ripacheggiato in modo... e allora anche lì si creano tutta una serie di casi che quando queste chiate crescono vanno in tribunale, però intanto molta gente è convinta che delle grosse star che nascono nel mondo bianco negli anni 50 e 60 hanno creato le loro cose, il malinteso che io ho vissuto negli anni 80 e 90 quando ero ragazzo e per cui alle volte ci siamo alzati anche le mani negli anni 80 più che altro, e c'è gente che mi diceva chi è il cantante più bravo di tutti, perché all'epoca a Genova c'era il mito di Elvis, c'era proprio gente che si vestiva come lui e con quelli ci si dava delle botte o niente, a me non me lo puoi dire, perché io già sapevo, perché avevo già il cofanetto dell'Atlantica, avevo già parlato con degli esperti di musica soul, a Genova c'era gente che ne sapeva negli anni 80 di blues e soul e me l'avevano detto, guarda che Elvis è tutta una copia di queste cose qua. Difatti se andate a vedervi il film Elvis, questo è proprio chiaro, lui da bambino aveva proprio vissuto in un quartiere dove era andato a vedere queste cerimonie, queste feste ed era stato rapito, perché era una persona comunque di un talento musicale enorme, quindi aveva un'influenzabilità, era come una spugna, gli dai quella roba e lui l'assorbe tutta, ma lui non aveva fatto niente di male, fatto che la gente che non capisce un cazzo, quando vedete un artista che fa delle belle cose, chiedetevi sempre da dove viene questa meravigliosa cosa, perché a me piacciono i magma, che è una formazione degli anni 70, dicono di crowd rock, ma in realtà è una fusion globale la loro, è bellissima la loro musica, sono affascinanti, ma ti devi ascoltare quintali di musica gotica e quintali di jazz per capire che il loro è un bellissimo crossover di queste cose, e allora a quel punto capisci che loro hanno un grosso merito, ma molto del lavoro di fabbricazione di quelle armonie, di quelle sonorità, di quei temi musicali, di quelle melodie, di quelle progressioni, di quelle strutture, di composizione, eccetera, viene da altre cose, di gente che si è fatta al culo prima. Allora, per essere corretti, visto che abbiamo tutti i mezzi, buttiamo degli articoli, scriviamo dei libri, diciamolo in pubblico, grande Elvis Presley, grandi Pink Floyd, grandi tutti quanti, però ricordiamoci che il grande merito della creazione di questi temi o era pubblico dominio di roba che si cantava proprio nelle strade, nelle feste, tra neri, perché poi negli anni 40 c'erano i gruppi du WAP che facevano le gare negli angoli della strada per contendersi il diritto del gruppo più bravo a cantare, quindi c'erano gruppi di 5-6 ragazzi che di sera o di notte cantavano armonie du WAP e gli altri che poi cantavano come risposta dall'altro angolo e tu passai per la strada e sentivi queste cose, capito? George Clinton, dei famosi parliamenti funkadelic, era un artista du WAP quando era giovane e di fatti molte armonie du WAP sono state inserite nei suoi pezzi degli album più funk che ha prodotto Du WAP, posso chiederti scusa cosa si intende per du WAP? È un genere vocale che si basa su un'armonie proto-jazz con una forte sincopazione di matrice afroamericana che deriva in parte da una derivazione di alcuni cantati che si facevano nei mini stress, in questi show fatti dalle famose blackface eccetera eccetera e prima ancora da una forma più evoluta, più articolata di quello che era il blues cittadino, non quello rurale. Ritmicamente sia il du WAP che l'R&B partono da un effetto ritmico abbastanza complesso che in passasi base dalla polirritmia che si genera ai Mardi Gras di New Orleans durante i vari secoli, perché tu sai che durante i weekend a New Orleans lasciavano i neri ballare a Congo Square, che era una piazza dove tutte le domeniche se non sbaglio loro ballavano e c'era tutta una coda di musicisti che suonavano davanti agli strumenti veri e propri, quindi tromboni, trombe, gas e gran casse ovviamente non suonavano la musica che suonano le nostre bande italiane e dietro c'erano tutta gente che non aveva i soldi per comprarsi gli strumenti che portava bicchieri, pentole o qualcuno addirittura percuoteva la propria pelle o le mani e facevano tutta una serie di ritmi che essendo tutta gente di derivazione africana avevano ognuno o molti di questi o gruppi di questi facevano metri e ritmi diversi creando polirritmi ed è per questo che nell'R&B noi abbiamo il rallentamento dello snare tutta una serie di parti come l'i-hat che segue magari un tempo triplettato con lo snare invece che segue delle duples, un tempo binario che sia in certe ritmiche vocali che ci sono nel duop quando le voci si incrociano e cambiano metro allo stesso tempo con armonie abbastanza complesse che prendono anche dal jazz oltre che dal blues e poi abbiamo anche quando il duop si trasferisce su dischi dove c'è proprio un'orchestra sotto e c'è quindi anche una sezione ritmica, una polirritmia formata da quello che fanno le voci e le parti di strumenti sotto. Questo poi quando a New Orleans si sviluppa il funk con i meters, noi questo lo sappiamo di per certo perché lo dicono loro stessi quando noi andiamo nello studio di Cosimo Matassa, un italiano su cui voi dovreste studiare tutto quello che ha fatto perché è un italiano che ha fatto partire il funk a New Orleans Cosimo Matassa, penso dovrebbe essere la persona a cui dobbiamo dare tutti a più rispetto in questo senso se vogliamo considerare un illustrico nazionale che ha veramente dato alla musica afroamericana nello studio di Cosimo Matassa il batterista registrava degli i-hat in tempo triplettato e la batteria tunt, 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 dove però né i quarti né le triplette erano perfettamente centrate ma le triplette oscillavano tra un tempo ternario e andavano quasi a spostarsi disturbando sul tempo binario e lo snare andava a ritardare un'inezia in modo da creare quasi una confusione tra il tempo dell'i-hat della batteria e del basso e questo è il groove che è quello che noi avremo poi nel funk capisci quanto è complessa la cosa? è chiaro, e questa tutta sequenza che mi ha appena descritto che mi ha detto che creava il produttore in studio cioè era voluta o era involontariamente figlia del fatto che aveva asserbito tutti questi sani? era eredità della musica afroamericana veniva da New Orleans questa roba tutti i musicisti neri a rispettare, soprattutto a New Orleans perché i meter sono a New Orleans a New Orleans c'erano i Mardi Gras se vai anche adesso al Mardi Gras ci potete andare chi tra voi ha i soldi? andatevi a fare un Mardi Gras a New Orleans sentitevi i groove organizziamo un viaggio sarebbe figo organizzare un viaggio un tour sarebbe bello fare un viaggio tutti assieme andiamo lì e anche se ormai è passato tanto tempo ci sono influenze correnti però potete vedere tutta sta gente col vestita colorata che fa delle robe ma scusa non l'avete mai visto il Carnevale di Rio è tutta un'altra area culturale ma è importante per la disco perché la disco sarà influenzata dalla musica brasiliana e latina degli anni 60 a Rio se voi ascoltate i batteristi e i percussionisti i ritmi che fa sta gente in Italia a meno che non andate da Jetsist you can forget about it cioè la stessa cosa se andiamo a New Orleans se noi ascoltiamo tutti quegli intrecci ritmici che fanno quelli lì con le mani con le cose noi italiani se ci mettiamo in una banda a suonare siamo tutti piatti non ce la facciamo forse nel sud Italia ci sono delle tradizioni ritmiche per cui metti assieme della gente che ha fatto delle processioni dei rituali antichi che si ripetono negli anni tipo che ne so io non ho mai sentito ma la musica che si balla il ballo delle tarantolate certi cori napoletani tradizionali allora lì c'è il ritmo di mani che fanno triplette, metri diversi tre quarti, cinque ottavi la batteria che fa due quarti cioè ognuno però è tutto in un incastro che ripete schemi di molto complessi di strutture che ci sono in Africa nelle tribù africane non è un caso che c'è gente come Gunther Schuller o Arthur Morrissey-Jaws che hanno detto che se il nero potesse ascoltare per un po' tutta la ritmica e la musica classica che abbiamo prodotto noi a livello ritmico sorriderebbe della nostra rozzezza ok ok tra l'altro sì facendo questo discorso io ho sempre associato sempre nella mia ignoranza io vado sempre molto a sensazioni però sì ho sempre sentito un po' nella musica diciamo napoletana neanche nella cultura napoletana la cosa più vicina alla cultura black che possiamo avere in Italia e quindi cioè comunque ha tutto un'origine diciamo tribale alla fine anche il fatto che guardati la pelle di Liliana Cavani guardati la pelle di Liliana Cavani quando c'è la cerimonia falli ok prova a cercare dal volo su google c'è la musica di Lalo Schiffering però riflette molto secondo me quelle che sono certe cerimonie tribali ma è una regista ma è una regista? all'inizio del a metà del film dove c'è questa musica tribale che in realtà è musica di Lalo Schiffering però è cantata da un coro tradizionale di Napoli coro delle lavandaie e se voi se qualcuno di voi ha la voglia di studiarsi i cori tradizionali di Napoli secondo me troverà delle cose meravigliose a livello ritmico perché abbiamo avuto l'invasione sia araba che sveva lì quindi c'è la cultura che è allucinante dobbiamo solo inchinarci di fronte a certe forme di cultura anziché disprezzarle no anzi dobbiamo essere grati perché quello che sento anch'io cioè che ho conosciuto questo ragazzo camerunese di origini camerunese in università e lui mi spiegava come come tutto il processo coloniale nell'Africa eccetera eccetera e quindi spiegava come praticamente la Francia è costruita sulla pelle dei neri per questo adesso ci sono molte politiche se tu leggi la ricerca del tempo perduto di Proust c'è un momento in cui Proust dice un giorno siamo andati allo zoo perché in gabbia avevano messo un nero e così abbiamo visto un nero in gabbia eh ma in Belgio c'era lo zoo umano cioè c'erano anche a Parigi a Parigi ok ma madonna Proust ne parla alla ricerca del tempo perduto madonna e poi poi bisogna fare ricerca però si 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 i neri erano animali quindi per quei tempi si praticamente schizzi esatto poi sempre questo mio amico camerunese mi ha fatto sentire della roba del camerun che appunto come ho messo in play che tra l'altro ha anche le sue milioni di views su youtube però veramente erano ritmi a me mi aveva completamente destabilizzato perché iniziano un po' quello stile dancehall afrobeat però poi c'è veramente i tamburi i piatti diciamo chiamiamoli così nella mia ignoranza che proprio vanno a un ritmo tutto loro e quindi cioè non sapevo esatto neanche come muovere però allo stesso tempo è ipnotico e ti e ti e ti rapiscono nel loro ritmo quindi quello è quello che ha provato Elvis quando è andato nel capannone per chi ha visto il film ok io non lo devo vedere ancora eh vabbè la c'è iniziale non è spoiler sì sì nella parte iniziale quanto sappiamo la vita di Elvis come è stata in cui Buzz Luberman rende omaggio a quelle che sono state le influenze di Elvis bambino e c'è una scena in cui lui va in un capannone dove c'è una cerimonia religiosa e lì dovete vederlo perché lì è proprio come un bianco si sente quando per la prima volta vede dal vivo quella che è l'esibizione di musicisti che sono su un canone completamente diverso dalle musichette del Natale e da quelle del coro dell'Antoniano a cui si erano tutti abituati prima no? chiaro madonna assurdo cioè veramente più che altro più parliamo più mi rendo conto di quante cazzo di cose non so vabbè perché io trasmetto a voi e a te la voragine che c'è nella mia testa io più davanti più vedo una voragine di dati e di informazioni che più mi inoltro più è grossa è un po' come chi esplora l'universo e più riesce ad andare oltre vede che c'è dell'oltre ancora o dopo l'oltre quindi sono felice di avervi dato un po' di questo per stimolarvi a buttarvi anche a voi in questa voragine non ci si fa male anzi si imparano tante nuove emozioni anche sì 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 assolutamente più che altro esatto io per esempio ora sono molto ancora più curioso cioè già di base di mio sono curioso più esatto hai gli input giù cioè sai magari cosa andare a cercare hai uno spunto di ricerca in più esatto e poi ti chiedo allora mi chiedevano siccome stavamo facendo il discorso prima di come tutto questo ritmo creato nel New Orleans poi ha influenzato eccetera 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 mi chiedeva per esempio la musica emo invece come è stata influenzata cioè ha anche anche essa delle origini e delle influenze afroamericana sì 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 tipo in me che mica romance io la musica emo ok io non la conosco molto la musica emo perché qua noi abbiamo avuto un influsso enorme di edm per un periodo ma è durato molto poco nel periodo che voi avevate lì emo io per quelle poche che ho ascoltato immagino che quello che si possa dire è che il movimento della cassa della yet è sicuramente influenzato dall'house che a sua volta è influenzato dall'rmb che a sua volta è influenzato dal jazz e dal soul jazz degli anni sessanta cioè quando voi sentite tutta la roba lì è tutta sincopazione che arriva dagli anni cinquanta e dagli anni sessuanta che a loro volta è una semplificazione di tutte quelle sincopazioni della parte ritmica che venivano da prima sulla parte di bassi melodie armonie non lo so perché dovrei studiare di più la musica emo comunque lì ci saranno dei riferimenti penso io alla musica elettronica tedesca al crowd rock e tutta una serie di cose fatte anche da produttori verso la fine degli anni settanta non escludendo Giorgio Morder e tutti quelli che hanno fatto un po' di elettronica Patrick Oley poi dopo c'è da dire però che anche questi cioè Kraftwerk per primi avevano come modello James Brown quando facevano le loro ritmi che lo stesso Morder che è nato musicalmente in Germania perché lui lavorava con la munice orchestra eccetera lì aveva tutta la roba la musica afroamericana diciamo della metà degli anni settanta che era un misto tra funk soul e protodisco se vogliamo dirla così quindi anche lì tutta musica nera poi che queste persone abbiano usato l'elettronica per poter esprimere le loro emozioni e le loro visioni musicali ci sta benissimo è anche un esperimento quello che vuole però quando tu premi i bottoni e mi fai tu du tu tu du tu quello lì prendi un fiato e fai la stessa cosa hai una piccola melodia jazz che a sua volta è una piccola melodia di un canto africano che è una piccola melodia di qualcos'altro c'è chi contesta questo e dice che c'erano anche in Italia in Italia dove però siamo da capo in zone che hanno avuto delle invasioni come anche in Spagna ci sono sono rimaste delle memorie di queste cose ma non sono parte della nostra cultura come originatrice per l'EDM mi dispiace di aver fatto questo come per l'Evo questa analisi così semplificata ma non la conosco molto ma sono sicuro che se vado a vedere trovo veramente un bulaco comunque per chi mi ha fatto questa domanda può iniziare ad ascoltare cose più vecchie vedere magari dei libri che ne parlano e vedere tutta quella roba lì da dove viene vedere soprattutto le interviste agli artisti più noti della Emo da chi si sono ispirati poi si vai a quelli che a lui si sono ispirati loro e vedi a quelli da chi si sono ispirati e vai indietro e cerchi di trovare tutte le caratteristiche comuni e lì stabilisci una catena di trasmissioni di caratteri estetici stilistici della musica chiaro questo è un metodo di analisi chiaro 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 molto interessante allora poi mi chiedevano sempre adesso un po' direi anche un po' magari di domande e curiosità che mi facevano i ragazzi quindi andiamo un po' a caso mi chiedevano tipo vabbè se hai mai prodotto hip hop rap cosa ne pensi della produzione hip hop perché ormai oramai cioè la concezione che c'era della produzione hip hop è FL Studio Logic pack di suoni preso da adesso non so bene i nomi dei siti eccetera eccetera tu che rapporto hai cioè hai mai sperimentato cioè sì io ho prodotto per un pezzo per gli S.R. Raza poi perché io porto per Kilo all'epoca tanti anni fa Raza ma Raza RZA cioè quello dei Wu-Tang no 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 è S.R. Raza il gruppo Sardo ah ok Sarazio ah ok penso che ah i Sarazio ma mi pare già sentiti un pezzo solo un pezzo poi un altro pezzo per Roma che non mi ricordo più adesso per chi per qualcuno di Roma mi ricordo se era Colle del Fomento chi altri ok e poi qualcuno a Milano e poi ho fatto molti esperimenti per me che ho ancora qua e la mia relazione con l'hip hop è la stessa che ho un pochino col new disco con il new funk cioè il problema grosso dell'hip hop è che lo puoi fare come vuoi non c'è non c'è di avere il sample pack se tu sei veramente creativo puoi prendere un batterista e hai i mezzi ti puoi far fare un groove e poi lo dirigi in modo tale da creare un groove simile hip hop e vai a seconda del periodo che vuoi riprodurre può essere old school new school current eccetera e poi lavorare con campioni misto musicisti come faceva Dre oppure lavorare con sample pack anche nella riduzione più totale della tecnologia l'importante nell'hip hop non è tanto come lavori e come lo fai ma l'intensità del groove che tu vuoi creare perché il movimento ritmico nell'hip hop è chiave senza di quello non hai hip hop perché l'hip hop nasce col groove secondo me morirà col groove hip hop distinto dal groove groove cosa si intende in particolare è quel movimento ritmico di cui stavamo parlando prima perfetto tutte le parti ritmiche si incastrano in modo da creare un movimento ritmico che istintivamente ti muove a battere il piede a muovere la testa ok quando basso diciamo rullante cassa assieme ai head e altre parti percussive che potrebbero essere anche una chitarra ritmica che rende un movimento di base che ti porta a ti porta a muovere contrariamente invece magari a un ritmo binario che non è appoggiato da nessun orpello ritmico per cui tu hai sempre una interessa casa hai un processo meccanizzato della produzione del ritmo che va bene magari nella situazione in cui sei nel grosso club e ti impastichi un po' un pochino di droghine droghette vai no e invece questa è un'altra cosa è praticamente la musica che già di per sé in stato diciamo di sobrietà che poi comunque non è una cosa necessaria ti fa muovere parti del corpo questa cosa qua chiaro quindi il groove deve avere questo effetto ed è un device ritmico si può chiamare un tool ritmico o un modo di suonare uno stile di suonare che è sempre sta servito a far ballare la gente in piste negli anni 50 negli anni 60 negli anni 70 80 fino a oggi anche nella grill nella grill nella grunge ci sono dei pezzi groovy quando vengono anche a drum and bass in Italia si è cercato solo questo no no però è una cosa che esiste anche in questi generi perché se no la gente non balla se tu non fai riproduci un bel groove la gente balla di meno anche se c'è la bella voce diciamo anche nella nella tecno se tu io sono andato a sentirmi diverse serate tecno sono andato a sentirmi Villa Lobos qua a Londra Al Fabric tante cose che scusa tutti questi pezzi Riccardo Villa Lobos ok e ha fatto delle belle serate diciamo in cui ha suonato della roba tecno mista minimale e lì c'erano tutti questi queste batterie che sembrano fare appunto figure in contrasto col basso quasi semi poliritmico ma non ovviamente a quel livello lì però davano l'idea di un movimento e la gente ballava quando metteva quei pezzi vedevi che la gente si prendeva di più no? sì 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 quindi stiamo sempre lì quindi è tutto basato sull'intensità l'hip hop la costruzione dell'hip hop l'intensità della parte ritmica secondo me poi ovviamente ci sono tutta una serie di caratteristiche che sono la forma canzone quindi introduzione parte rap e volendo ci può essere anche una strofa come molta musica di adesso perché c'è molta radiofonia e poi ovviamente la commerciabilità perché ovviamente l'hip hop è una cosa fatta per vendere non è semplicemente una cosa fatta per restare nella casa di chi le fa e per me è un'esperienza che a differenza di altri generi che richiedono uno studio esteso sviluppato può essere riprodotta sia in uno studio complesso ma anche in un piccolo setup fatto da computer e questo è bello l'hip hop dà voce a molte persone però ricordatevi la competitività e la bellezza del prodotto dipendono dal talento e dall'impegno e dall'impeto con cui voi volete produrre una cosa se fate le cose così tante per fare vi verrà qualcosa di culo e tante altre cose eh no chi invece ci mette tanto bel impegno va sì 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 ultimamente è noto anche c'è molto anche la cura anche nell'immaginario ovvero l'universo che crea l'artista ma anche per esempio anche nel pop mi viene in mente Lana del Rey nella trappa adesso il più recente Playboy Carty che appunto che per esempio Carty ha creato tutto questo universo no essere vampiro all'oscuro musica quello è quello è è roba vecchia sì sì è roba vecchia che adesso mi sembra che si chiami ma ritorna tutto Forbidden Dreams dove affrontano proprio la storia dell'immaginario afroamericano negli anni ma non so se si chiama Forbidden Dream sì sì tanto poi uno si chiama Race Rebels e poi magari ti mando sì 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 tanto poi sì te li avrei chiesti anche dopo che anche in chat me li avevano chiesti anche altri che abbiamo nominato durante la conversazione ci sono dei libri che parlano proprio di come i neri visto che sono sempre stati soprattutto in America ma anche in Europa trattati come delle merde cercato rifugio nell'immaginario in un immaginario completamente al di fuori quello che si chiama Afrofuturismo è l'immaginario in cui molti di questi creativi troveranno la pace solamente in un pianeta dove la tecnologia e la civiltà saranno così sviluppate e le menti saranno tutte uniti in una sorta di network per cui non ci possono essere più differenze di carattere individuale e che vengono anzi pur essendoci rimangono comprese da tutti gli altri se tutti potremmo essere nella mente degli altri in teoria alziché impazzire dovremmo al contrario di quello che viene in John Malkovich dovremmo riuscire ad amare gli altri per quello che sono il Matrix una serie di visioni di questo tipo e c'è una c'è un'artista famosa nella musica che pif anche George Clinton che loro hanno fatto George Clinton me lo ricordo perché in Two People Butterfly l'astronave no? sì sì esatto perché loro hanno creato poi questa astronave nella fine degli anni 70 grazie alla monificenza della Casablanca Records e loro andavano a fare ci sono su YouTube tutti i concerti dove lui esce dall'astronave eccetera quindi in Italia abbiamo i rockets che escono dagli uovi che arrivano dallo spazio abbiamo la coppia di quello che era successo ma poi in Italia mi rendo conto siamo impacciati cioè non so come dire c'è quella cosa non lo so mi sembrano tutti impacciati quando ripropongono non so neanche se al termine giusto perché non è la loro roba esatto però a Napoli quando rifanno la loro musica cerimoniale non sono impacciati zaro perché è la loro roba sì sì capito quando non è roba tua anche nella trap tutta quella roba che è stata copiata dai trapper francesi ci sta perché giusto se tu sei ispirato dai trapper francesi vai sono usciti anche dei bei dischi adesso non mi ricordo chi però me li hanno fatti sentire però però quando poi senti trapper francesi eh sì senti quel pellino di energia in più esatto e poi quando ti vai ascoltare i trap americani da cui si originano quelle cose francesi senti ancora di più grazie quindi vai closer to the source più vicino alla fonte ricordate quello che è lontano dalla fonte è sempre buono perché c'è sempre talento c'è quello che insomma c'è la creatività dell'individuo c'è la genuinità anche non so come dire esatto però più vai verso la fonte è la cultura con cui sei nato se tu non fossi nato lì ma fossi nato in un posto di Harlem dove fin da bambino senti i ritmi africani non saresti la persona che sei ah no assolutamente eh sei la tua mamma e il tuo papà anziché parlarti come parlano ti parlano in rima e sotto c'è la la batteria africana che va ti 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 quando hai tre anni è ovvio che la tua testa si riprogramma in maniera diversa questo è ovvio eh sì cazzo e vedi i bambini su Instagram che ci sono i bambini che suonano la batteria come se fossero dei batteristi funky si avete venuti dei bambini ma perché sono nati in contesti dove hanno sentito quando avevano proprio un anno il papà che gli suonava la batteria così in continuazione e anziché sentire la musica dei bambini sai quelle musiche che comprono i genitori che suonano vicino alla cura youtube kids ecco togli quella roba lì e metti ci e vediamo cosa come nasce il bambino se ti nasce un po' impacciato o se ti nasce bello funky capito? sì 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 assurdo sì perché penso anche tipo a video che mi escono su TikTok oppure che vanno virali perché sono video simpatici appunto i bambini di due tre quattro anni che già conoscono a memoria capito? le canzoni del peggior trapper driller assassino gang member cioè riescono a imitare perfettamente le gesta il modo di parlare in quel periodo tu puoi assorbire tutto non hai molto non hai tutte le strutture che hai dopo capito? esatto invece spostandoci un po' mi chiedevano che era una mia curiosità e se vuoi poi ne parleremo anche un'altra volta anche per parlare un po' della musica italiana facciamo un accenno giusto? mi chiedevano un po' la tua esperienza a Londra per quanto riguarda l'elettronica tutta la scena house techno la drama specialmente la drama in base insomma un po' tutto il movimento garage ci aggiungo anche io cioè tu da quando sei di là la senti l'aria di garage in Inghilterra nel senso è il fatto più la sentivo è una roba degli anni 90 qua a Londra la garage è una cosa dal 93 al 2000 magari poi si cambia poi nel 2000 si passa direttamente all'house io qui sono arrivato a Londra nel 98 però quando arrivavo c'erano ancora gli ultimi grossi party di UK Garage e c'erano dei locali di cui non mi ricordo il nome dove c'erano proprio quasi solo neri questo mi ricordo ok e quindi dovevi avere un po' di coraggio perché non eri eri l'unico bianco ce n'erano veramente pochi e c'era sta musica che è veramente vissuta diciamo come la vivano loro in pista era una reinterpretazione del boogie e dell'R&B americano secondo regole completamente più strumentali con cantati ripetuti più volte ma con una base strumentale di house molto sincopata e molto diversa da una base house che in realtà è molto più dritta dove quindi snare e cassa si alternano con una vivacità molto più diciamo insistente e questa gente ballava a tempo facevano dei giochi di gambe per me lo ricordo due o tre serate che sono andato appena sono arrivato poi perciò che guarda l'influsso che c'è stato sulla drum and bass soprattutto della musica jazz c'è da dire che per quello che so io quando sono arrivato a Londra la musica diciamo drum and bass quindi dopo la jungle perché la jungle è ancora un'altra cosa era stata influenzata direttamente molto dal jazz c'era molto jazz drum and bass perché noi a Londra abbiamo avuto una grossa presenza del jazz soprattutto negli anni 90 tramite l'influenza di DJ come Jice Peterson e quindi tutti i produttori di drum and bass che erano di Londra o del sud di Londra molti di questi non tutti facevano drum and bass col double bass o chi c'era il suo passo o boom 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 poi dopo qualche anno e qui siamo verso il 2006 2007 quindi dal 98 anche di più dal 98 al 2007 incominciano a sentirsi già da tempo da qualche io 2005 2006 la prima ma magari c'era qualcosa prima dei cantati proprio di soul ma non di soul commerciale solo indipendente e c'ho qualche disco di drum and bass con i Fender Rhodes cioè il Fender Rhodes beh qua c'è il Wurlitzer non so neanche se si sente sì 60 che è diciamo un piano degli anni 60-70 che si usava molto nel soul ma anche nel rock soft nel soft rock e il Fender Rhodes adesso non ce l'ho ce l'ho qua da riparare ma è un piano che viene stato usato fondamentalmente nel jazz nel soul nel funk con la disco anche e anche intanto soft rock tipo super tramp quella roba lì questa roba utilizzata nel drum and bass dava la possibilità ai jazzisti di esprimersi in un genere dove ha un beat molto sincopato ma anche molto molto duro che aveva la preminenza sul mix perché era quello più alto di tutti nello spettro dell'audio però dava la possibilità di fare delle svarionate che ovviamente ha dato al jazz una nuova linfa dopodiché in certe aree del jazz i batteristi cercano di imitare i loop e i group di drum and bass suonando dal vivo con queste robe di jazz che vanno velocissime che quindi esprimono a questi pianisti esprimono una grandissima tecnica ovviamente fare cose corrette a quella velocità non è facile parliamo 170-160 eccetera quindi questa è la mia esperienza nel drum and bass drum and bass più techno non ne conosco poca perché a me è sempre piaciuto il jazz quindi non ho approfondito ma anche lì ho sentito ogni tanto delle cose molto interessanti per ciò che riguarda la techno invece a parte diciamo le serate che ho fatto nei locali dove ero ad orecchie aperte e sentivo veramente diverse cose io vivo con un ragazzo che è un produttore di techno che è un'etichetta che produce techno e quindi ho ascoltato involontariamente tutta una serie di cose anche per lui piace molto la techno anni 90 la techno anni primi primi 2000 la techno degli anni 10 eccetera adesso sulla techno c'è da fare un appunto la techno inizialmente deriva ritmicamente dal funk perché tutte le ritmiche techno della prima techno erano big beat cioè erano tutto tutto tanto tutto è quello viene dal funk ed è soprattutto dai break che venivano diciamo suonati dai dj tipo gramaster flash nei block party c'è un legame diretto lì dopo questo c'è in un libro che si chiama techno rebels dove ti fa capire proprio il legame tra la funk e la prima techno dopodiché c'è il raddrizzamento metrico per cui tutta la musica che inizialmente parte con una ritmica molto complessa e una varietà di colpi di snare di cassa all'interno del groove cioè all'interno della battuta scusa quindi non hai la battuta dritta ma hai la battuta tutta 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 hai la battuta più dritta pian piano incominci a togliere tutto e hai tutta tutta però tutto quello che c'è sotto quindi le linee di basso e le linee di synth nella techno sono molto sincopate se tu senti anche techno hanno due cose che sono molto comuni alla musica afroamericana la botte e la risposta tipo un synth che fa da 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 3 per avanti per ore questo è botta e risposta che se tu leggi jazz di gunther schuller che è un libro che dovrebbero leggere tutti pubblicato in Italia dalla e d d t di torino ti parla proprio della botta e risposta in tantissime pagine del primo volume di questa serie io consiglio che vevi compriati tutti i volumi ma il volume più importante è l'uno dove lui affronta tutta la parte musicale vota e risposta è la parte forse più importante di quella che è la musicalità della musica afroamericana di performance, nell'R&B ad esempio c'era una voce che faceva I'm without a girlfriend yeah brother without a girlfriend I'm without a girlfriend yes you are e c'è la vota e c'è la risposta a livello sonoro ci può essere la stessa cosa con un gioco di synth con un gioco di fiati, le trombone che fanno papapapa e magari il trombone fa papapapa e questo dà all'ascoltatore una voglia di movimento se c'è anche un ritmo sotto che ha un forte groove Nella Tecno c'è molto questo io sono andato a sentirmi due o tre grossi set al Fabric e al Fold al Fold c'erano due DJ no il Fabric di Londra Fabric di Milano e poi non so neanche cosa sia un po' staccio sono andato a vedere Sven Bat ah ti è piaciuto? minchia lui si il locale no però minchia è un pazzo c'è Gregor Strasser che è uno dei produttori secondo me di Sven Bat che gli ha fatto dei dischi che sono stellari e poi c'è ci sono stati DJ che sono andato a sentire un po' più house che hanno suonato deep tipo Glenn Underground e qualcosa di techno adesso scusate se sforcio nell'house dove però ho trovato molti elementi comuni anche qui il groove la batta e risposta i synth usati in questa maniera comunque sembra che nonostante ci voglia modernizzare a tutti i costi perché la musica è un cambiamento continuo la musica afroamericana continua a dominare anche le forme più moderne di musica di intrattenimento che io le chiamo con pastiglia perché sono musiche che se non ti fai una pasta non ci vai esatto ecco però senza senza quella noi non avremmo sicuramente techno non avremmo avuto drum and bass non avremmo avuto UK Garage non abbiamo avuto dubstep ovviamente parlo del dubstep inglese non so quello che è arrivato in Italia com'era non avremmo avuto la new disco che abbiamo adesso che è in Inghilterra è guardati la Defected Records e la Glitter Box che è un party e adesso è dedicato è nato una subsection della Defected e la Glitter Box producono proprio loro tutta una serie di artisti new disco eccetera eccetera poi c'è un'etichetta di techno chiamata The Small Hours se non sbaglio di cui ho comprato qualche singolo di cui ho recensito in TG Vinile proprio per via della ritmicità che hanno questi dischi cioè sì d'accordo il suono è techno ma il ritmo è tutto post African Music quindi tanto poi Villa Lobo se non sbaglio viveva in Sud America i primi dischi di Riccardo Villa Lobo sono tutti incroci tra ritmi paraguayani uruguayani con 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 casse dritte suoni techno Moody Man un altro produttore house proprio bisogna inchinarsi ha lavorato su dischi pseudo jazz pseudo house pseudo techno pseudo disco cioè a questo punto c'è una così una forte influenza della musica della cultura afroamericana che sembra quasi che l'africanità cioè l'essenza della musica africana è così forte pervasiva per cui dovremmo rivedere tutto il senso della nostra percezione della cultura africana e veramente dovremmo accettare il fatto che gli africani hanno tutto il diritto di ridere della nostra rozzezza ma non perché siamo inferiori noi non vogliamo non voglio cambiare posizione semplicemente riconosciamo che è una grandissima cultura non c'è solo la cultura mite l'europea non c'è solo Hegel Wagner Mozart i filosofi come Fichte e altre cose che sono sì le espressioni di un grande pensiero però cazzo noi abbiamo anche le espressioni di grandi ritmi che di grande musica che fino ad adesso hanno influenzato anche la musica classica perché se tu vai a vedere tutte le robe da film che i musicisti i compositori classici come Gershwin che hanno fatto cazzo lì c'è tutta l'influenza del jazz dello swing non mi puoi dire che questa cosa tocca solo i produttori di rap sono cose così sono influenze così immense così mi sembrano anche molto subdolene nel senso c'è che c'è se non le sai se non le videnti c'è ok 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 perché tipo io che non so neanche posso poter immaginare la vita tutto questo cioè ma se ti ascolti tutta la roba vecchia per un po' di anni ok tra dieci anni saprei riconoscere tutti questi caratteri facilmente perché ascolti tutto l'R&B tutto il soul jazz tutto il jazz funk e ti dici cazzo ma questo è questo tutto poi ti fai proprio una cultura nell'house school dell'hip hop perché è lì che avviene la revolution è nei block party che avviene la revolution questo non l'ho ancora detto ma la cosa più importante è che Grandmaster Flash ha fatto un'innovazione così grande perché lui suonava i break dei dischi non i dischi sì lui prendeva la parte di batteria dei dischi e le suonava tutte le parti di batterie di dischi uno dopo l'altro ma con degli effetti eccezionali tu avevi tutti questi ritmi di batteria di bassi di percussioni che andavano avanti tutto il tempo e la gente e i musicisti che erano di cazzo hanno detto ma perché queste cose non le prendiamo e non le riproduciamo in studio come base delle nostre creazioni musicali e poi da lì si è andati avanti senza dare credito a New York diverse volte loro erano impazziti per il groove di James Brown soprattutto per Funky Drummer il pezzo del drummer Clyde Stubfield che loro avevano sentito avevano fatto Trans Europe Express e tu ascolti la batteria tu 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 ta tu 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 ta e James Brown cosa faceva tu tu ta tu tu ta tu 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 ta cioè non è che siamo molto distanti lo dicono loro noi volevamo riprodurre i groove bellissimi di James Brown ma in un ambiente musicale completamente pan tedesco diverso arricchendoci senza dare credito se non è questo cross pollination come si dice in cultura britannica inglese americana mamma mia assurdo comunque io sono cioè ringrazio anche i ragazzi in chat sono molto dicono assurdo quante cazzo di cose che non sappiamo e che ci sono da studiare da scoprire eccetera eccetera se vuoi ti faccio una famosa frase prima che passiamo alle domande di George Louis Borges che consiglio a tutti di leggere penso che sia nella raccolta di saggi della LEF dove lui parte con un detto di Salomone che dice tutte le cose che noi non sappiamo non è che non le sappiamo perché non esistono o devono ancora esistere ma sono semplicemente il frutto dell'oblio tutto quello che noi sapremmo se noi non avessimo oblio sarebbe la coscienza che tutto è già stato fatto difatti c'è un detto in Inghilterra it has really it has already been done è già stato fatto come dire non è vero che questa è una cosa nuova è scoperta tu e per te è una cosa nuova rispetto la tua diciamo sensazione di novità in realtà questa cosa esiste da millenni non da secoli che poi chi fa questo appunto viene spesso visto anche come rompi i coglioni quello che vuole rompere capito il nerd quello che vuole far vedere che ne sa di più io la metto più come un benvenuto nel circolo del reale benvenuto finalmente hai aperto gli occhietti bravo ho fatto le mani perché dico mi fa piacere che il cucino abbia imparato qualcosa piano piano comunque a turno a tutti tocca quindi è la roba ci passiamo tutti quanti comunque in quella quando ti capita un trauma nella vita e arriva la tua mamma e il tuo papà e ti dice ma queste cose succedono e tu impari che queste cose sono una ricorrenza no? sì 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 mi metto un botto di esempi comunque sì ti sparo altre domande sempre che mi fanno in chat un po' adesso non so se tu segui le scene attuali comunque erano curiosi di sapere tipo se segui rap tipo rap inglese se ci sono degli artisti che ti piacciono particolarmente nel rap inglese rap ovviamente in tutte le sue derivazioni ma io allora ti spiego vi spiego io ascolto molto le cose però adesso è ancora presto perché tutte le cose del 2022 2023 no ma anche io raccolto le sto ascoltando ma non mi ricordo i nomi sì 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 sono sicuro magari un Dave può può interessarti soprattutto per la scrittura Anthony Fantano però gli ha dato dei 5 dei 6 mi sembra l'aver sentito mi sembra l'aver sentito qualcosa adesso ci sono un po' di nomi calli la scena UK in questi anni si sta sia con la drill che anche altri artisti la stanno facendo anche Dave è uno vabbè che molto interessante perché prende molte nella sua musica mente molte influenze afro vabbè tu mi hai spiegato che ormai in tutto c'è però diciamo più esplicitamente soprattutto influenze senegalesi non vorrei dire una cazzata o nigerianer che hanno più un tipo un Wizkid un Barnaboy che hanno quelle melodie un po' afrobeat dancehall quel sound più che melodia quel sound soprattutto a livello di produzione sì non mi stupirei comunque se poi mi dai un po' di nomi sì sì allora quelli caldi quelli caldi sì sono Dave Stormzy Stormzy magari magari ma Stormzy è un'icona proprio di persona gli ho detto ciao era in un club una sera perché c'era un party e c'era anche lui non è che me l'hanno presentato era lì lo conosceva uno gli ho detto ciao gran bella musica anche se mi ricordo poco ma so che comunque è un grandissimo rap perché citato anche in un ma poi è un signor cristiano io non so quanto sei alto tu Paolo però cioè ma immagino che sia ok questo libro qua dovete leggervi DJ Target Grime Kids ok io intanto mi sto segnando tutto se mi vedi distratto perché a volte sto prendendo appunti però no segnatevi questo scrivi scrivi questo è molto bello è DJ Target che parla che è appunto un DJ che ha fatto sia Grime che diciamo UK Guard e parla della soprattutto l'ultimo capitolo parla molto di Stormzy e dell'evoluzione di tutti questi DJ che sono tutti legati alla UK Garage tra le altre cose vengono da lì qui è quando erano più belli che andavano a scontire la UK Garage poi sono cresciuti e sono passati attraverso Drill Grime e tutto il resto no? però sono tutte cose legate alla cultura afroamericana ma ci sto rileggendo l'ultimo capitolo e mi devo riascoltare le cose perché sono sicuro che ascolto molto Radio Operata e di Stormzy ho già ascoltato un buio arco di roba bossy bop poi la sua hit più quella eh vabbè non riesco a farla ora però si ha fatto delle hit me li riascolto con calma sono tutti qua fantastico poi ce li ho anche sul mio iTunes purtroppo il problema mio è che ho un iTunes che ha quasi 400.000 titoli madonna cioè ci sono 400.000 song sono 14 hard disk di iTunes quindi non non posso ricordarmi le ultime cose più difficili devo passarci più tempo anche perché io nel frattempo seguo il new jazz il new funk la new disco e la new cosmic ok e tutte le settimane vado sui negozi e sento un bulacco di roba e quindi mi dovete dare un pochi più di tempo certo poi se anche sarei interessato all'approfondire quell'ambito più che altro esatto cosa si intende ma possiamo farlo in una puntata delicate in una prossima live dopo che mi dai due nomi vado a vedermeli faccio una bella analisi anche basandomi su altre letture ci sono tanti libretti i libri i libricini di queste cose assolutamente poi c'è anche una domanda che secondo me è molto interessante interessante cioè interessante nel senso che se ne può parlare che è appunto la tua esperienza nella produzione musicale il rapporto con le label e se hai fatto delle release con le big label europee io so che tu hai la tua non agenzia come si chiama la tua etichetta che poi esatto anche qua vorrei parlarne perché faremo anche se ti va sempre puntate dedicate qual è la differenza tra label major tutte queste robe qua perché spesso c'è confusione io sono uno molto confuso in questi temi questi la major è una struttura di tipo corporate cioè una big company una compagnia che ha veramente una distribuzione sua studi suoi di registrazione un budget molto ampio per fare promozioni complete cioè promozioni da 17 20 30 mila dollari per disco anche di più organizzare concerti ha contatti e influenze su tantissimi promoter e soprattutto ha anche una struttura giuridica diciamo corporate cioè non solo la sua head company ma anche tutta una serie di affiliate in tutto il mondo che controllano il suo che controllano la distribuzione la diffusione del suo business in tutto il mondo questo è la major di solito le major classiche sono strutture di questo tipo le label possono essere qualsiasi cosa un'etichetta una record label può essere uno che sta a casa e produce musica e si mette la musica su Spotify da solo e si chiama Crick and Croc Records o può essere un'etichetta come la XXL ad esempio che ha un tot di dipendenti ha la sua distribuzione più altri distributori che l'aiutano e tutta una serie di artisti anche prominenti e grossi però non dipende da una struttura corporate e soprattutto non ha un'influenza enorme come può essere quello della major ma può avere un impatto notevole sulla musica e poi influenzare le major su quella che è la loro scelta di artisti a loro volta eccetera chiaro 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 e la tua esperienza diciamo qual è stata di produzione è una lotta continua è una lotta continua perché chi ha una label si mette proprio un bel bastone nel culo cioè non ce la fai è pesante è pesante perché hai tutto il tempo che devi litigare col distributore che vuol fare un prezzo e tu ne vuoi un altro esempio ti vende il disco una certa tu fai il vinile ti vende una cifra una certa cifra e tu dici ma no ma scusa questi dischi questo disco è un ep dovresti vendermi a quest'altra cifra se me lo metti a sta cifra o non lo compra nessuno oppure me lo devi promuovere di più e questi qua non fanno nell'una nell'altra cosa però devi stare attento perché se no perdi diciamo il suo beneplacito per la futura distribuzione ad esempio poi ci sono gli artisti che rompono i coglioni ti arriva l'email dell'artista che ti dice dove sono i miei soldi questa è una cosa quando invece tu gli hai dato tutto quello che dovevi dargli gli hai dato anche i rendiconti e tutto ma loro pensano che tu sia paperon de paperoni quando loro non stanno lì a farsi il culo e poi c'è l'esperienza degli artisti che vengono in studio perché io faccio anche faccio soprattutto produzioni che vengono lì e fanno la loro cosina quando invece dovrebbero fare la loro cosa e allora tu li paghi e dici ma ciccio io ti pago ah ok nel senso non è che vengono loro a registrare per se stessi no ma vengono per te no vengono a registrare per me ma fanno una cosina allora dico no bella sta vocina ma tiriamola un po' più in su cioè facciamo una performance poi è anche un po' il compito del direttore creativo un po' ecco compito del direttore creativo vuol dire che gli devi urlare dietro eh sì questi qua continuano a farsi cazzi loro e tu gli dici no non si fa quindi dopo un po' si perde la pazienza eccetera eccetera poi c'è il problema della promozione eh sarebbe magari imparerebbero poi c'è il problema della promozione promozione costa ok la promozione di un singolo può costare al minimo dai due a trecento sterline e può arrivare a costare fino a 25 30 mila sterline quindi devi stare molto attento eh a come spendi i soldi anche perché poi hai il costo della grafica se fai poi la il fisico hai anche il costo eh del vinile eh e della stampa eh e hai anche il costo del packing e della distribution eh dello stocking delle copie da parte del distributore che te lo carica quindi ci sono tutta una serie di cose che tu devi sapere non si può aprire un'etichetta se non si sanno ste cose perché prima o poi un vinile lo fai ah se sei a Londra sì perché fai la celebrazione anche se fai solo digitale una volta lo fai anche col digitale hai tutti i costi di grafica e di promozione però ogni tanto vuoi fare il vinile non puoi partire e dire adesso faccio il vinile per celebrare dieci anni dell'etichetta e non sai come si fa cioè non sai quali sono i costi associati come tenerli bassi magari la copertina non la fai a quattro colori fai fare dal grafico qualcosa di bello in due cioè insomma sono tutte cose di cui bisogna tenere conto ovviamente c'è c'è la parte legale per cui io sono avvocato e me la cavo da solo almeno quello ma se tu avvocato non lo sei devi avere un avvocato perché poi quando ti fanno causa perché il tuo artista ha copiato x e y e tu non hai e tu magari hai fatto un contratto che hai preso da internet l'avvocato deve aiutarti per far diciamo apparire quindi sei coperto il culo con quel contratto sempre che sia possibile quindi c'è tutto ci sono tutta una serie di cose mamma mia bella gatta l'apparare invece c'è hai mai firmato per big label e barra che recito sempre della domanda abbiamo fatto licenze per delle major nel passato ed è stato un incubo perché poi le big label ormai sono standardizzate ok cioè da una quindicina una ventina d'anni a questa parte a Londra le big label sono basate su contratti standard per artisti che non sono nulla come me quindi per loro ovviamente dal loro punto di vista quindi o sei veramente enorme e allora lì c'è una forza di negoziazione diversa o se sei piccolo devi firmare contratti senza possibilità di negoziarli tanto quindi tutte le volte che io ho firmato delle cose per delle grosse label e soprattutto delle licenze quando soprattutto nella band di tutto matto nei primi anni 2000 abbiamo visto proprio che non avevamo possibilità di replicare cioè firmi e poi loro ti pagano un po' quando vogliono perché hanno nel contratto tutta una serie di clausole che li permettono di nazionare i pagamenti se non raggiungono una certa cifra poi ovviamente per vedere i rendiconti reali e proprio dovresti fare una procedura di audit si chiama le procedure di audit costano migliaia di sterline e quando sei un artista l'ultima cosa che vuoi fare è una procedura di audit perché i soldi li spendi in equipment e in look perché giustamente devi andare a fare le serate devi produrre a casa quindi a meno che non sei ricco di famiglia è molto più difficile eccetera eccetera e invece per quanto riguarda le serate ti è capitato di suoni in giro per Londra fai le tue serate hai suonato adesso faccio una serata di new disco dopo tanti anni che io non suonavo più da 5 o 6 anni e poi l'anno scorso c'è questo locale che mi ha ripescato mi ha proposto di fare un sabato sera cosmic tipo Daniele Baldelli new disco e io ho detto di sì perché di quella roba c'è un bulacco di roba tra le altre cose molto roba più elettronica di quello che si pensi tutti pensano new disco alla disco no new disco è l'interpretazione della disco negli anni attuali con tutta una serie di synth di pacchetti di campioni eccetera dualipasto dicendo un'eresia le varie no no roba molto più indie roba molto più indie ascoltatevi un su youtube una una serata di Daniele Baldelli ok quella è più o meno l'elettronica che va ah no stavo confondendo mi segno anche lui che mi ero segnato Cosimo Matassa invece no è un'altra persona Cosimo Matassa è per il Rhythm & Blues degli anni 50-60 e per l'inizio del fan che è un release invece Daniele Baldelli e Gino Grasso sono due DJ molto importanti ormai i settantenni che hanno fatto i DJ dagli anni 60 e che sono diventati molto conosciuti soprattutto per questo stile di suonare che si chiama Cosmic dove tu unisci tutta una serie di produzioni che hanno dell'elettronica che però ha come base un groove molto solido quindi un groove disco e funk molto solido però fatto con strumenti elettronici e alle volte che riprende anche vecchie canzoni e lei interpreta secondo canzoni di Mina ad esempio rifatte con un beat funky ma con i synth quindi siamo veramente a una sintesi della sintesi della sintesi della sintesi di qualcos'altro però diciamo funziona qua lo ballano è anche roba molto dinamica e c'è anche della techno fatta così un po' più cosmic come prima ho menzionato etichetta small hours però ce ne sono altre etichette che hanno questo tipo di c'è un'etichetta molto bella di house soft techno che si chiama demiriquismo che ha tutto questo stile ed è molto interessante molto interessante mamma mia un botto di roba un botto di roba poi ti faccio magari tipo l'ultima ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto Paolo così ti lascio andare da di là allora andrà cos'è un'ora indietro giusto scusa un'ora indietro sì sono le 10 e 19 qua esatto quale 11 e 19 tra poco chiudiamo io sto bello io sto bello cucinato però anche se magari non ti ho risposto nel merito eccetera perché ho assorbito tanto è cioè è stato molto figo infatti voi faccio tutti gli appunti qua ma anche se ma anche per robe future perché mi si aprivano idee di argomenti da trattare in futuro cioè ormai poi mi hanno fatto domande in live si potrebbe anche fare un Q&A praticamente delle live apposite di Q&A sì ecco si può fare però datemi magari i nomi prima esatto così do un'occhiata perché io durante la settimana ricerco molto per i miei DJ set chiaro se so che ci sono degli artisti di cui volete che vi analizzi la musica vi parli sono contento di farlo chiedi ai tuoi followers amici di mandare delle raccomandazioni mi dai due link mandami anche una bella lista io con calma l'analizio poi tra due settimane ti dico vabbè su questi artisti qua e magari qualcuno vicino a loro posso fare una bella Q&A non ci metto molto perché poi l'ascolto e scrivo subito delle robe chiedo un attimo a un ragazzo in chat che mi ha sparato un sacco di domande perché ce ne ha due adesso che allora qual è il tuo synth preferito cosa ne pensi dei digital dei remake digital dei classic synth anni 80 90 dell'arturia barra l'altra domanda che è appena arrivata in chat che è sempre legata a questo tema se conosci Fred Again che è un DJ che sta andando molto ora se ne pensavi Fred Again o Fred Again F-R-E-D Again e tre puntini di sospensione perché Fred Again avevo capito Freda stando la Freda di nuovo Freda Again no no Fred Again Fred Again ok no non conosco ma andrò a sentire eh ti mantelati girano anche lui rispondendo girami tutte queste informazioni così poi facciamo la risposta magari la prossima poi c'è anche c'è anche ci sono anche domande sul K-pop se anche anche quello poi magari si può tirare nel caldo K-pop ti posso dire una cosa in anticipo prima che parlo dell'Arturia e rispondo a questa persona assolutamente K-pop è tutto fatto coi vintage synth perché ho conosciuto della gente che fa K-pop e li fanno hanno tutti Jupiter 8 Memory Moog prophet 5 ma quelli originali ok sono i vecchi synth anni alcuni degli 80 81 70 tutta roba che adesso costa decine di migliaia di sterline però questi produttori usano robe vecchie per fare queste cose almeno quelli che ho visto io a Londra che fanno K-pop mi hanno fatto vedere gli studi hanno una collezione di vecchi analogici che è spaventosa quindi voi ascoltate musica apparentemente più nuova fatta con la stessa strumentazione con cui si faceva l'italo disco questa è un'inservazione non c'entra non c'entra un cazzo con il come cavolo si chiama il city pop giapponese non c'entra niente non sono gli stessi synth forse il city pop era più suonato o sbaglio non lo so quello devo vedere ma è probabile se è giapponese è probabile che siano molto vecchi i synth perché in Giappone hanno il culto per queste macchine city pop era proprio anni 80 tipo la campionata anche The Weeknd nel suo ultimo disco quella stay with me se è fatta roba negli anni 80 se è roba che è fatta negli anni 80 c'è la possibilità che addirittura usavano synth degli anni 70 ok tipo l'Ms20 o i Mug modulari il Roland System 100 queste cose qua ma per rispondere al tuo amico su quella questione io adoro Alessio se ti può interessare si chiama rispondo ad Alessio e ti dico Alessio io adoro le robe nuove della dell'Arturia quelle robe lì e in particolare ci sono due synth nuovi che sono per me il massimo assoluto uno è il come si chiama l'Oberheim l'Oberheim OBI8 un bellissimo il nuovo synth della Oberheim l'altro è il Quantum Waldorf MK2 che è uscito adesso la versione MK2 c'era già la versione prima che è meraviglioso spettacolare e poi ovviamente il Syntax dell'Electron che è una macchinetta una specie di groovebox che è bellissima cioè io non vedo di comprarmeli tutti e tre l'anno prossimo l'Oberheim OBI8 costa sulle 5.000 sterline 4.000 5.000 4.800 il World of Quantum MK2 potrebbe essere 2.800 3.500 ma non lo so il Syntax dell'Electron costa pochino rispetto a questi e costa 7.800 euro detto questo io altre marche più economiche penso che abbiamo fatto delle macchine splendide per cui Arturia tutte le macchine le riedizioni della Prophet lo stesso Moog che è stato rifatto adesso non me ne vengono perché sono andato a un amico tra le altre cose sto weekend che mi ha fatto vedere tutte queste macchine le abbiamo provate e ce ne sono alcune che hanno dei suoni bellissimi io stesso mi sono preso il Korg il Voica quelli piccoli quello piccolino che è bellissimo poi c'è il Korg Drum che è un altro della stessa serie che fa tutte le drum e poi ci sono tutte queste macchinette di varie marche europee americane mi ricordo l'Hydra Synth che è bellissimo assolutamente da comprare quindi io sono un amante delle robe nuove però come produttore che ha continuato a produrre musica dagli anni 90 fino adesso ho una visione per cui a me piace sempre unire il suono vecchio col suono nuovo in tutte le mie robe metto un Memory Moog che è una macchina dell'81 assieme a un Korg Prophecy che è la macchina tipica degli anni 90 e quando voglio ci metto anche il Korg Voica o una macchina come un sintetizzatore GRP che è stato prodotto due anni fa da Paolo Groppioni che è un se non sbaglio un ingegnere che produce sintetizzatori fino ad arrivare anche macchine come il nuovo con i nuovi Prophet quindi mi piace unire proprio suoni di macchine di varie epoche e ottieni una pasta molto più brillante secondo me che usando solo macchine vecchie o solo macchine nuove chiaro 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 penso a lei sia soddisfatto per me un po' linguaggio alieno perché non essendo molto del settore ho dei riferimenti vedo che scriveva il Juno 6 Korg MS20 riferendosi pensavo a quello che sta dicendo il Juno 6 non so se intende il Juno 60 o se c'è un Juno 6 forse il Juno 60 è una macchina spettacolare che manca nella mia collezione e me la comprerò anche se ultimamente è diventata cara fino a 20 anni fa lo trovavi a 1000 sterline adesso ci vogliono almeno 3000 mentre invece il Juno 106 è una gran bella macchina che ancora costa meno di questo ed è utilizzata in tutta la roba nuova quindi io la consiglio ti faccio la domanda finale lo conosci tu Mike Dean? penso di sì Mike Dean? Mike Dean sì è uno che lavora molto ai synth ed è diciamo quello che sta dietro a certe canzoni hit clamorose di Kanye West di Travis Scott e di tutti questi artisti forse ho visto dei video su YouTube sì sì e lui c'ha sempre Blunt è pieno di c'ha sempre fumando Blunt di marijuana gigante forse sì ha il ciuffo un po' a gallo da gallo e sta di là esatto ha fatto anche degli album da solo synth ma niente allora magari anche un giorno approfondire su di lui su come lavora sarebbe interessante ci do un occhio comunque riprendendo questa cosa allora ti do anch'io un altro consiglio guardate se ti piace Mike Dean guardatevi Matt Johnson il tassierista di Giammiroqua ok che ha un canale YouTube ok si chiama il canale Matt Johnson Giammiroqua che si scrive Giammiroquai e lui prova tutte le tastiere parla di tutte le tastiere c'è una bella recensione anche dell'Obera iMob X8 poi ti fa vedere altre macchine e suona tutta roba jazz funk molto bravo io mi guardo Mike Dean e voi guardatevi questo assolutamente assolutamente mi sono segnato tutto Paolo allora io ti auguro una buona serata una buona notte ti ringrazio infinitamente per tutta la knowledge che ci hai droppato per averci reso è stato un piacere persone più coscienti con più cultura sinceramente è stato bello è stato un bello scambio assolutamente e niente quindi niente ti auguro una buona serata ti ringrazio ancora i ragazzi in chat sono contenti ringraziano dice mio padre ti amo e tutte e tutte queste incitazioni cuoricini viola cuoricini viola cuoricini viola buonanotte allora grazie mille ancora